Il ruolo del canale in Italia è un'importanza fondamentale per qualsiasi vendor che si affacci sul mercato italiano. Noi pensiamo di poter dare quel valore aggiunto che serve ad abilitare il canale su tutte le nuove tecnologie, cosiddette disruptive, ossia che cambiano i paradigmi. In questo contesto BlackBerry rappresenta un'evoluzione di quello che era considerato il mobile nel mondo verso un panorama più ampio di iperconnettività e ipersicurezza che si sta intravedendo con l'adozione dell'Enterprise of Things. Tenendo conto che noi siamo un distributore focalizzato esclusivamente sulle tecnologie mobile e naturalmente andare a prendere dei partner che siano anche loro focalizzati su questo argomento è molto difficile perché ancora la parte mobile non è vista all'interno di un business complessivo di un sistema integrato non è visto come una fonte di ricavi in buona sostanza. Cosa stiamo facendo? Stiamo andando a prenderci, a cercarci uno per uno dei partner specializzati che abbiano all'interno know-how, che abbiano all'interno un'organizzazione commerciale, che abbiano una diffusione territoriale. Questo ci permette di essere più capillari in tutto il territorio nazionale. I risultati stanno arrivando a distanza oramai di quasi un anno, i risultati stanno veramente arrivando e siamo molto soddisfatti.